Cartier Santos de Moiselle, il fascino di un orologio iconico. Gli orologi da donna di Cartier rappresentano veri e propri simboli di maestria e design senza tempo. La Maison parigina offre una vasta gamma di modelli che spaziano dall'oro all'argento, ornati con diamanti o caratterizzati da numeri romani o indici in diamanti, e con forme rotonde, quadrate o ovali. La combinazione di competenza tecnica e design impeccabile è ciò che distingue Cartier nell'universo dell'alta orologeria. Negli anni, Cartier ha lanciato numerosi modelli classici e iconici, rendendo la scelta ancora più ricca e affascinante. Tra i modelli più venduti e amati delle collezioni di orologi da donna di Cartier, spicca il Cartier Santos de Moiselle, uno dei primi orologi creati dalla Maison che si distingue per il suo stile inconfondibile, con una cassa squadrata e angoli smussati. Questo orologio d'aviatore è disponibile in diverse varianti, in diversi metalli nobili e con o senza diamanti incastonati. Il Cartier Santos de Moiselle rappresenta un'opzione elegante e raffinata. Questo orologio è un omaggio all'aviatore Alberto Santos de Humont e presenta una cassa quadrata con angoli arrotondati, una lunetta con viti a vista e un bracciale in metallo o in pelle. Il quadrante offre numeri romani e lancette a forma di spada e il movimento può essere al quarzo o meccanico a carica manuale. Con la sua eleganza discreta e il suo riferimento storico, il Cartier Santos de Moiselle è un orologio che ha conquistato celebrità come Catherine Zeta Jones e continua a essere amato dalle donne di tutto il mondo. In sintesi, il Cartier Santos de Moiselle rappresenta un perfetto equilibrio tra maestria artigianale e design intramontabile. Il Cartier Santos de Moiselle è un'opera d'arte che incarna la tradizione, l'innovazione e il lusso distintivo di Cartier, attirando le donne di ogni epoca con la sua eleganza senza tempo e la sua personalità unica. Che siate alla ricerca di un'icona classica o di un modello più contemporaneo, lasciatevi incantare dalla maestria e dall'eleganza dal prezioso orologio da donna di Cartier, il Cartier Santos de Moiselle.